L'Unione Europea è un patrimonio di culture e di valori condivisi, un grande progetto di comunità con al centro le persone e i diritti ed è poi per i paesi europei l'unica chance per sostenere le grandi sfide della globalizzazione. Le mie priorità sono innanzitutto sostenere e tutelare i diritti fondamentali e i valori come la libertà, la democrazia, la giustizia sociale e il lavoro. Mi impegnerò per incrementare la legislazione di contrasto alla corruzione, la legislazione di contrasto alla criminalità organizzata. Lavorerò ancora per proteggere e tutelare i minori, continuerò a lavorare anche per stimolare i giovani a partecipare a quelle decisioni politiche, alle scelte politiche che li riguardano. E poi ancora lavorerò per avviare una riforma dell'assetto delle istituzioni europee che possa dare al Parlamento unico organo elettivo potere legislativo autonomo. Grazie. 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 Grazie.